Sport, prevenzione e legalità, una manifestazione per parlare dei valori dell'attività agonistica pulita e lontana da ogni ombra organizzata da due campioni mondiali, Giuseppe Gibilisco, salto con l'asta nel 2003 a Parigie, bronzo olimpico un anno dopo ad Atene e Giuseppe Ferrazzano, campione mondiale di kickboxing. Sabato e domenica la marina diventerà quindi teatro di gare e prove ma anche di sperimentazione agonistica per i giovani siracusani. Iniziano i lavori per questi due giorni di sport, prevenzione e legalità, domani all'Urban Center ci sarà il convegno del professor Calabrese, Feliciano Di Blasi e Felice Lima e domenica entriamo nel vivo delle manifestazioni, qui alla marina tutto questo lungomare meraviglioso e anche lo specchio d'acqua che saranno 230 metri per 300 metri, sarà riservato appunto alla manifestazione dove faremo esibizioni di canoa, canottaggio, hobbycat, optimist e soprattutto ci sarà la prima tappa del campionato interregionale di moto d'acqua. Ci sarà anche Roberto Mariani che è il campionato del mondo di freestyle di moto d'acqua e poi qui alla marina ci saranno sport di tutti i tipi e chiunque volesse provare ci saranno gli istruttori che gli daranno l'opportunità di provare. Ragazzi ci siamo, questa Kermesse che riunisce tutti gli sport inizia domenica, già abbiamo iniziato, sono iniziati i lavori, hanno montato il palcoscenico. Il sabato sera ci sarà una piccola festa per inaugurare questo evento, ci saranno delle esibizioni, balli, pole dance, cantanti eccetera. Saremo tantissimi gli atleti, si presume già dai calcoli che abbiamo fatto solo come atleti saremo intorno ai 1200. L'evento è gratuito, è disponibile e si può provare a livello gratuito chiunque avesse il piacere e la voglia di provare qualsiasi disciplina può tranquillamente farlo. Ci vediamo domenica, ore 9, si inizia con il nostro amico Francesco Moser che farà una tappa di 60 km con 200 ciclisti partendo da qui, arrivando ad Avola e ritorneranno qui a Siracusa e poi da lì partiranno tutte le altre attività.